Ok, siamo qui con una lavoratrice della Fudora, o meglio dire ex lavoratrice Fudora, Ilaria, che insomma non fa parte del gruppo che abbiamo visto in piazza negli ultimi giorni, ovvero quello di coloro che fanno le consegne in bicicletta o in scooter, ma fa parte del gruppo delle promoter, di quelle che portano i volantini e spingono la gente ad acquistare cibo su Fudora, la quale negli ultimi giorni assieme a una sua collega ha ricevuto una strana comunicazione dall'azienda. Ilaria vuoi raccontarci che cosa è successo? Allora, venerdì mattina dopo l'ultima riunione informale a cui io e quest'altro collega abbiamo partecipato riguardante appunto le condizioni contrattuali dei rider, noi abbiamo partecipato in mio formale nel senso che ci volevamo interessare a quello che stava succedendo ai nostri colleghi, abbiamo appunto ricevuto una chiamata dal responsabile delle promoter che ci diceva di fatto che noi non avremmo più lavorato per Fudora. Il nostro contratto in realtà cade il 30 di novembre, quindi non c'è stato stracciato il contratto, noi non siamo in realtà state licenziate, siamo semplicemente, insomma, ci è stato detto che non avremmo più lavorato, che non ci sarebbero più stati assegnati i turni perché abbiamo partecipato alla rivolta dei rider, quindi insomma io e questa collega ci ritroviamo ad oggi senza lavoro. Ovviamente il lavoro di Fudora non è l'unica entrata su cui ti puoi basare, perché comunque le condizioni sono quelle che insomma sono, e tanto quanto le condizioni dei rider, tanto quanto quelle delle promoter, insomma non è che proprio navigliamo nel loro, e quindi insomma ci troviamo senza lavoro per aver sostanzialmente dato solidarietà ai nostri colleghi. Quindi insomma questa è la nostra situazione ad oggi. Quindi il vostro contratto, nonostante il fatto che sia ancora in piedi, non prevede un minimo di turni settimanali o massivi? No, 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 è un contratto diciamo a chiamata, di collaborazione a chiamata, quindi in base alle tue disponibilità, e in base ai turni che l'azienda mette a disposizione, tu ti prenoti tramite questa applicazione che ti scarichi dall'App Store, piuttosto che da Google Play, e ti inserisci appunto nei turni, dalle tue disponibilità, e poi l'azienda diciamo a sua decisione decide quali turni assegnarti o meno. Noi siamo state cancellate, il nostro privo è stato cancellato dall'applicazione, quindi non possiamo neanche più vedere i turni, e comunque anche se li potessimo vedere non ci verrebbero appunto assegnati, come ci è stato detto venerdì scorso dal responsabile delle promotore di Fudora. E tu chiamaresti questo tipo di operazione licenziamento, piuttosto che mobbing, in che modo la potresti definire? Ma allora, mobbing non lo possiamo definire in realtà perché noi non siamo dei dipendenti, e certamente c'è qualcosa di molto simile al mobbing, nel senso che comunque è una situazione abbastanza, un senso d'ansia, abbastanza che in realtà ci ha accompagnato in questi mesi di lavoro con Fudora, ma che negli ultimi giorni si è acutizzata parecchio, diciamo. E quindi nulla, io la chiamerei un licenziamento un po' particolare, ma sicuramente parliamo di forme comunque di lavoro che sono tra virgolette nuove, o che comunque stanno emergendo e vengono anche, insomma, categorizzate, piuttosto alla gig economy, insomma. Quindi direi che sì, in realtà siamo state licenziate, ma non licenziate. Un licenziamento non licenziamento, lo definirei. Senti, a proposito invece delle condizioni di lavoro in cui vi trovavate quando stavate lavorando per Fudora, come funziona il ruolo e la turnazione di questa parte della forza lavoro Fudora? Pronto, le promoter si prenotano nei turni che vengono proposti dall'azienda. Sostanzialmente sono di due tipi le attività. Sono le attività di quelle che vengono chiamate hand-to-hand, che sono le attività di volantinaggio, che vengono svolte al di fuori delle stazioni della metro, piuttosto che per strada, i sabati pomeriggi, eccetera. Poi ci sono invece degli eventi organizzati da Fudora stessa, che vengono, sono soprattutto eventi serali al di fuori dei ristoranti, quindi questa è sicuramente l'attività che facciamo. E noi partiamo da una paga base, che è una paga oraria, che è di 5 euro e 20 all'ora. Che è più o meno equivale a quella dei rider? Sì, no, che equivaleva a quella dei rider prima che appunto venisse introdotto il cottimo a 2 ore e 70 a consegna. Quindi c'è da dire che dalla nostra parte le promoter vengono trattate leggermente meglio dall'azienda perché comunque hanno una paga oraria fissa. Tu lavori 8 ore, sai che prendi quello. I rider invece, e per questo che noi c'eravamo interessati anche alle loro condizioni, i rider ormai possono lavorare in teoria due ore, prendere un turno due ore, ma se in quelle due ore non effettuano nessuna consegna in realtà hanno regalato due ore alle aziende e questo è un ottimo, insomma, un po' un regalare del tempo. Ecco, e quindi questo. Ho capito, va bene, grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie.